Dopo otto giorni si torna a morire di Covid al Moscati di Avellino. Ieri pomeriggio è deceduto in una delle stanze di isolamento Covid un paziente di 71 anni di mercogliano affetto da una serie di patologie. L'uomo era vaccinato ed era ricoverato dal 7 novembre scorso in terapia subintensiva. Nelle aree Covid intanto sono ricoverati altri sette pazienti, sei nelle unità operative di malattie infettive e uno in rianimazione. Intanto ad Avellino il virus corre veloce. Il settore ambiente, il bar e le altre aree comuni del palazzo di città sono stati sanificati dopo l'accertamento di un caso di contagio in comune. La situazione è stata gestita rapidamente in tutta sicurezza, spiega il sindaco Gianluca Festa. I contatti diretti e i colleghi del settore ambiente del lavoratore sono isolati in attesa della verifica sanitaria. Si lavora da casa e nessuna ripercussione si è avuta sulla normale attività amministrativa. Si tratta di un dipendente non vaccinato che per venire in ufficio doveva sottoporsi a tampone. Nel corso di una verifica sanitaria di routine dunque è stata accertata la sua positività. Intanto sono altri sei casi positivi in città. Sui 25 riscontrati a livello provinciale sono in tutto 663 i tamponi processati. Buone notizie da Cervinara. A piccoli ma significativi passi stiamo venendo fuori da una situazione di grande difficoltà. Ci sono altri 13 guariti e nessun contagio e sono 75 attualmente i positivi, ha dichiarato il sindaco Caterina Lengua.